Grazie Aranti, dottor Marmoli, per questo bellissimo evento che chiude i vent'anni del festeggiamento. Sapete che Rebecca è la madre, la moglie di Isacco, il vecchio Isacco, l'hanno fatta vino, c'era formato a Padova, avevano andato in Padova, poi c'era trasferito rapporti prima dei medici, poi dei farnese. Lui ci ha spinto per portare, questo è quello spirito, con il quale abbiamo aderito a un momento di espertare questo evento. Perciò grazie, grazie a tutti i miei che sono qui. Grazie per cortesia, ci dona anche le emozioni nelle sue parole, guardando e spiegandoci queste bellissime opere. Grazie signor Sindaco, grazie veramente. Beh, allora, sì, in effetti ringraziamo la Casa dell'Essame della Fondazione per la disponibilità di queste straordinarie opere che ci hanno messo a disposizione, con Francesca Giorgi, con cui ho condiviso il piacere del progetto, la realizzazione di questa mostra, e con Emanuele Martiera, che ha sapientemente illustrato il suo allestimento.